Il giardino è un bellissimo giardino a casa, ma non coltivo alcunché, sia esso legale o illegale. Un coltivo però questo non significa che non me ne piaccia l'odore, anzi, a volte uno finisce fino a Amsterdam per andare a sentire l'odore, certi odori. Detto questo, da quando ho realizzato questo film sono riuscito, adesso mi occupo molto più del mio giardino, delle mie piante, sono più consapevole. Ieri per esempio sono stato a giocare a golf, su un campo da golf fuori Roma e ogni volta che sbagliavo comunque un tiro, che quindi invece di lanciare soltanto la pallina beccavo l'intera zolla, comunque mi assicuravo che poi le zolle venissero rimesse al loro posto.